Abbiamo discusso innanzitutto delle elezioni amministrative, io di ritorno da Palermo ieri poi leggo con stupore cosa scrivono alcuni giornali, anche nazionali francamente, ma ho trovato un sacco di energie in movimento che noi dobbiamo fare ogni sforzo per incanalare, per portarle a un risultato positivo che può esserci, anche in una situazione molto difficile certamente. Saremo verso il 20 marzo a Genova in un appuntamento con tutti i nostri amministratori che aprirà un po' la campagna per le amministrative e cercheremo di dare un'indicazione generale che è quella di un sostegno leale, convinto a Monti che sta facendo bene e assieme raffigurare un partito che non è sordo e non è muto rispetto ai grandi temi sociali che sono aperti e che premono sulla vita comune della gente e quindi io cercherò anche nel viaggio che sto facendo di andare incontro ai problemi, anche ieri sono andati incontro ai problemi e ci sono, ce ne sono tanti, e di dare voce anche agli elementi di disagio cercando di fare in modo che abbiano una qualche risposta, una qualche risposta di governo.